Vigilanza costante su tutto il tratto costiero di competenza, continuo controllo delle attività in mare ma anche del rispetto delle normative per esercizi pubblici e fruitori del demanio marittimo. Anche l'edizione 2017 della campagna Mare Sicuro condotta dal comando delle capitanerie di Porto è andata in archivio. Ottimi i riscontri nel vasto territorio di competenza dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Agata Militello con gli uffici locali di Santo Stefano Camastra e Capodorlando. 201 i controlli di polizia marittima effettuati, 25 bollini blu rilasciati a favore di diportisti risultati in regola con le normative e i regolamenti, 25 le sanzioni amministrative elevate in materia di navigazione da di Porto, utilizzo del demanio marittimo e sicurezza dei bagnanti. Tra le situazioni di emergenza fronteggiate, 4 soccorsi in favore di 11 bagnanti in difficoltà, 5 interventi per imbarcazioni da di Porto ed il soccorso a Chimba, la cucciola di Pitbull, finita accidentalmente in balia delle onde del mare mosso e trasportata dalle correnti verso il largo a Sant'Agata Militello. L'attività del circomare, diretto sino al 1 settembre dal tenente di Vascello Giovanni Pigna e quindi dal tenente Michele Rossano, condotta con l'ausilio delle due motovedette in forza all'ufficio santagatese, ha poi consentito un monitoraggio del territorio volto alla tutela del patrimonio ambientale, marino e costiero. Da ricordare il sequestro di un vasto campo boi di ben 41.000 metri quadrati di specchio acque o abbrolo, il sequestro di 4.000 metri di reti derivanti illegali e di altri attrezzi da pesca non regolamentari e di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione. Infine, una sanzione è stata elevata per pesca sportiva non autorizzata con conseguente sequestro di 50 kg di pesce spada illegalmente detenuto dal pescatore di Frodo.